Milano è una città davvero speciale. I grattacieli, i tram, i parchi, i parchi, i parchi. Oggi ci faremo raccontare Milano dagli eroi misteriosi e nascosti che combattono i veri nemici del mondo, il traffico e l'inquinamento. L'inquinamento lo combattiamo da sempre, ma il traffico c'è sempre qualcuno che fa tardi. Che effetto le fa essere M1? Guardi, lavorare con i milanesi è motivo di gioia per noi, ma gioia gioia, non di quella se ne occupa mio marito. Linea diretta presenta le passeggiate milanesi. Io faccio la strada che va da Garibaldi a Porta Genova. Poi passo dal piccolo, dal museo della scienza, da Sant'Ambrogio. E la sua preferita? In assoluto via Lincoln. Una passeggiata deliziosa. Sa, mio figlio ormai è sempre fuori casa, ma qui in famiglia ci incrociano spesso. Vabbè, Milano è bellissimo, ascolta. Cioè, a Milano puoi fare... Ma tu sei mai andato al Camparino? Camparino? Eh sì, ci passo tutti i giorni per andare a Greco, che adesso si chiama Nolo. Eh, vabbè, la mia sorellina... A parte che è la più tecnologica. Pensa che fino a poco fa arrivava fino a Zara. Ci credi che adesso mi ha quasi superato? Ora arriva fino a San Siro. Io, tutti i giorni, faccio un sacco di strada. E vedo tantissimi posti belli. Il Monumentale, Isola, Bicocca. Ma ancora vado a letto presto? Vabbè. È ancora piccola. Io e mia moglie ne stiamo ancora discutendo. Che poi mia moglie fa la modesta. Ma lo sa che ha ben quattro ville sulla sua strada. Non mi dica. Scherza. Ci sono pure fenicotteri. Deve incontrare... Stia attento a quei due. Fanno uno il contrario dell'altro. Buongiorno. Siete pronti per qualche domanda? Sì. Posso chiamarvi Gemelli Novanta? E Novantuno. Ci chiamiamo Novanta e Novantuno. Cos'è stato? Il cagnolino. Si chiama Bussotto. È il nuovo modello elettrico. Ah, il famoso Bassotto, insomma. Ha fatto la battuta. La superfamiglia ATM ha sempre avuto a cuore il futuro del pianeta. Il Bassotto. Ops. Il Bussotto. E il nuovo bus elettrico a zero emissioni. Oh, col cavo che vado a motore io. E ho sempre insegnato la differenziata ai miei figli. Eh... Sì, sì. Tutti i treni sono elettrici. Poi mio marito ha il pollice verde. Classifica delle zone preferite. Oh, Ortica. Che bei disegni. Piazza Olivetti. A me piacciono le fontane. Corvetto. C'è una bella strada. Baggio. A me piace Baggio. Anche questa giornata sembra volgere al termine. Ora lasciamo riposare la superfamiglia ATM che si sta preparando per la prossima giornata. Qui linea diretta... Oh! Si è svegliato il piccolino. Voleva farvi un saluto anche lui. Chi è? Chiri, 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 chiri. È il nuovo arrivato. Ma è ancora presto per vederlo. Buonanotte. Buonanotte Milano. E sogni d'oro. Ci vediamo domani mattina per una nuova puntualissima giornata nella nostra città. Buonanotte Milano! Sessi legge. Paghi 3 Grazie a tutti. Grazie a tutti.